Oggi abbiamo finalmente raccolto i primi frutti della pianta di pomodorzo e i risultati sono strabilianti. L'elemento sintetizzato da Doc Vandelli ci ha permesso di produrre acqua a sufficienza per tutte le nostre prime coltivazioni. Non sappiamo quali siano con precisione le proprietà organolettiche del pomodorzo. Sappiamo che è ricco di ferro, di potassio, azoto e persino di... La gravità forzata deve essere assolutamente regolata. La densità del pomodorzo è 134 volte più grande rispetto a quella che sarebbe stata coltivandolo sulla terra. Ogni singolo frutto sfamerebbe un intero matrimonio congolese. Il problema è fare le parti. L'america è se speaks of getting Peggy Sue Ross and he beat no on Mr. Chi chi chi... sticks Odds 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.